Io sono Edoardo, suono la batteria, io sono Lorenzo, suono la chitarra e sono anche la voce, io sono Giacomo e sono il basso, io sono Fabio e sono la chitarra, ci siamo conosciuti due anni fa, un anno e mezzo fa, praticamente noi tre giochiamo nella stessa squadra di calcetto, è venuto fuori che insomma, Edoardo aveva appena iniziato a suonare la batteria e rispondendo da una cosa all'altra noi suoniamo il basso, la chitarra, io suoniamo la chitarra, cioè volevo suonare la chitarra, quindi poi ho imparato a suonare la chitarra, e abbiamo fatto sto gruppo improvvisato e dopo si è venuto anche Fabio, si che è l'unico che so suonare recentemente. Noi abbiamo un genere sul rock barra hard rock, ci piace molto fare quel genere diciamo, però non ci siamo ancora proprio specializzati, ci stiamo sintonizzando un po' alla volta, abbiamo canzoni hard rock, canzoni un po' punk, alcune un po' indie diciamo, stiamo cercando di evitare la corrente punk indie, e non ci stiamo riuscendo troppo. Stiamo lavorando a un demo, stiamo facendo un demo, e cerchiamo comunque sempre di suonare live, che ovviamente è costruttivo, si è come un po' il compito in classe diciamo. Ciao! 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 A presto A presto A presto A presto